Amici del mio Reggio New York! Questa sera, amici, vorrei un pochino parlare di quella che è la mia esperienza personale, la mia esperienza soggettiva, che come tutte le esperienze soggettive, ragazzi, uno poi può anche decidere di farla sua. I miei primi giorni qui, ragazzi, a New York, sono stati qualcosa di incredibile. Mi sono sentito subito catapultato in questa realtà new yorkese, dove non riuscivo ancora a capire le persone, come riuscissero a muoversi, come se fossero palline lanciate così, in un flipper. Ebbene, ragazzi, New York è molto di più. Da quando ho iniziato a fare i tour per voi, ho imparato ad apprezzare quelle che sono le caratteristiche di New York che probabilmente non tutti conoscono. New York è una di quelle città, ragazzi, che nel momento in cui ci mettiamo piede per la prima volta, sicuramente ci ritorneremo. New York! New York! Nu! Amici dei miei vecchi è New York!